Oggi a giugno ricorre 20 anni, il 22 giugno del 96 Livorno-Fermana, come dimenticare? Intanto sono passati una vita perché evidentemente siamo vecchiati tanto, però non si dimentica mai anche perché di solito si ricorda volentieri le gioie, le vittorie, ma si ricorda anche negativamente le sconfitte. La sconfitta contro la Fermana a Ferrara fu una sconfitta che tra l'altro contro una squadra che aveva perso sia all'andata che a ritorno con noi. Purtroppo andarono su loro e lì ci fu la prima delusione del primo anno che venne a Livorno. Il 3 settembre del 95 invece c'era un ragazzino che si chiamava Ennio Buonaldi che così si approcciava al mondo del calcio, Livorno-Tolentino. No, praticamente ero venuto a Livorno non a fine carriera perché io dissi subito che a 31 anni sicuramente non ero a fine carriera e venni a Livorno molto volentieri, non per andare in un cimitero degli elefanti ma sicuramente per dare il mio contributo. Questo è stato e questo mi ricordo benissimo l'esordio nel Livorno con la vittoria dell'1-0 e il gol al volo che feci il gol 1-0 io. Il 15 giugno del 97 c'è un'altra data storica, la promozione in C1. Che flash ricordo hai? Sai, come ho detto prima, qui si parla di una vittoria, quindi di una gioia. Reggio Emilia penso che sia rimasta nel cuore a tutti perché qualsiasi persona che incontro, qualsiasi persona che mi riconosce mi ricorda sempre quel gol di Reggio Emilia, e oltre a quello con il Pisa. Quindi mi fa molto piacere, ricordo volentieri, sempre, tutte le volte che vado su YouTube me lo riguardo, mi riguardo tutti i gol nel Livorno, mi riguardo quello con il Pisa appunto e sicuramente quello della vittoria del campionato. 14 giugno del 98 lo spareggio Perugia? Io sono stato a Livorno tre anni e mezzo e ho fatto tre finali, di cui due perse una vinta, però sappiamo benissimo tutti com'è andata anche quella. Le tre finali praticamente Livorno penso che sia stata la squadra che meritava sempre di più perché comunque anche contro la Cremonese avevamo vinto sia a Cremona che a Livorno. A livello di risultati sul campo Livorno era arrivato anche prima della Cremonese. Poi sappiamo tutti benissimo com'è andata a finire, le penalizzazioni. Niente, abbiamo accettato la sconfitta e anche quella rimane sempre comunque una ferita indelebile. Abbiamo deciso di incontrare Anno Buonaldi insomma nel cuore pulsante della sua vita, della sua carriera. Questo è stato a parte, insomma alle tue spalle, lo stadio Armando Picchi. Se pensi oggi al calcio, pensi al passato, pensi al presente, che sentimenti hai nei confronti del calcio? Nei confronti del calcio in generale è cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Il sentimento per il Livorno è rimasto sempre come il primo giorno e come quando io giocavo in altre categorie, lontano da casa. Il primo risultato che chiedevo era sempre quello del Livorno, anche nelle categorie inferiori, perché comunque il Livorno è sempre il Livorno. Però purtroppo, al di là dei risultati, il risultato è negativo di quest'anno che purtroppo siamo ritornati nel, diciamo, nel barato. Perché bene o male la Lega Pro è un campionato molto ben diverso dalla Serie B e dalla Serie A. A livello generico il calcio mi sta deludendo perché ci sono troppe situazioni ambigue, subdole, cioè praticamente è un mondo falso, secondo me è falso. Però è sempre il mondo del calcio, è sempre il primo sport della nazione e quindi lo seguo sempre perché comunque da calciatore e da sportivo per forza bisogna seguirlo. E' nei 15 anni fuori da questo stadio una decisione è quella di non assistere più dal vivo a una partita. Proprio quest'anno è ritornato, insomma, anche con una sorta di amuleto perché quando sei arrivato allo stadio il Livorno ha fatto risultato. Perché questa scelta? Proprio perché evidentemente lo sentivo. Non è che dai una mano perché contributo, purtroppo da fuori dal campo nessuno può dare contributo a Livorno. Però sentivo la necessità, sentivo dentro di me che dovevo venire a Livorno. Dopo 16 anni che non mettevo piedi dentro lo stadio e lì vincemmo. Da lì tutti i giornalisti, voi giornalisti, mi avete chiesto di ritornare perché portavo bene, però fino a un certo punto andava bene perché 2-0 con la lanciata andava bene. Purtroppo sappiamo tutti com'è andata a finire. Se pensi che un giorno potrai indossare una divisa da dirigente di questa società? Questo non dipende sicuramente da me. Non sono tipo che va a chiedere e che comunque orbita intorno alla sede, al potere diciamo. Solamente se un giorno mi dovessero chiamare per dare il mio contributo in qualsiasi maniera l'accetto di buon grado e comunque mi metterò a disposizione per parlarne senza problemi. Si arriva una telefonata di Spinelli che dice, beh Ennio Bonaldi lo vedo benissimo nella figura di Accetti. Sicuramente c'è essere chiamati dal proprietario del Livorno, quindi il presidente Spinelli farebbe sempre piacere per parlarne tranquillamente senza nessun problema. Verrei. Se pensi invece al Livorno di quest'anno ce la possiamo fare? Sicuramente Livorno farà una squadra non competitiva, sicuramente farà una squadra da primato. Me lo auguro ma me l'aspetto. Spinelli non è uno che piace perdere e farà una grande squadra per ritornare subito nel calcio che conta e perché Livorno penso che si meriti solo questo. La Lega Pro non ce la merita Livorno. Non è giusto un caso che i colori nero azzurri, insomma, non è perché usano troppo di questi tempi? A me me lo viene a chiedere, a dire perché proprio insomma, no, casualità. A me lo viene a chiedere, a dire perché usano troppo di questi tempi? No.